Cari squattrinati e care squattrinate, buongiorno dal vostro premier Giuseppe Conte. Oggi volevo salutarvi, sono qui nella casa del grande fratello, cioè a Palazzo Chigi, con Rocco Casalino, il mio portavoce, e stiamo dando gli ultimi ritocchi alla finanziaria, la manovra finanziaria, che la prossima settimana andrà in parlatoio, in Parlamento. E ringrazio anche i capi di Stato europei, in particolare il presidente francese Macron e sua mamma, moglie. Procediamo qui nella casa del grande fratello e del Palazzo Chigi a vedere chi sarà la prima nomination. Rocco, Rocco.